Più controlli per chi rientra dall'estero. La Campania prova a blindarsi per evitare di importare il covid dai viaggi fuori nazione. Il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza numero 20 con la quale dispone ulteriori controlli in aeroporto per tutti coloro che sbarcano a Capodichino. Provvedimento che si applica a chi si sposta dall'Unione Europea, dal Nord America ma anche da Giappone, Svizzera, Islanda e Norvegia. La task force verificherà se il passeggero è dotato di Green Pass. In caso contrario sarà necessario un tampone antigenico molecolare. Intanto continua a salire la curva dei contagi in Campania che ora supera il 4%. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi sono 352 i positivi e si registra anche una vittima. In aumento anche i ricoveri in degenza mentre cala di un posto l'occupazione delle terapie intensive. Allerta sempre alta dunque in tutta la regione. A Torre del Greco dopo la strage familiare con le tre persone dello stesso nucleo morte per covid e non vaccinate il sindaco Giovanni Palomba invita i suoi concittadini a non rifiutare il siero. In poco tempo purtroppo il covid li ha presi e portandolo fino alla morte. Non erano vaccinati e questo ci fa capire l'importanza della vaccinazione. Io a Torre ricordo che il primo centro vaccinale che un'amministrazione ha messo a disposizione dal 6 di marzo siamo ad oltre 65 mila vaccinazioni fatte sul territorio dove le greche il covid c'è e lo dobbiamo combattere. Io ritengo esclusivamente con la vaccinazione.